E' nell'esempio di Madre Teresa di Calcutta che Papa Francesco tratteggia la figura del vero cristiano. Lei fu umile, silenziosa, capace di grandi cose perché è ancorata a Dio. Nella messa del mattino a Casa Santa Marta, il pontefice, ripercorrendo il passo del Vangelo, mette in luce tre parole chiave, parlare, fare e ascoltare. Ed è proprio quest'ultima che segna la differenza, perché, sottolinea, il binomio fare parlare non è sufficiente, può persino ingannarci. L'ammonimento di Gesù è di guardarci dai pseudoprofeti, in grado di pensare cose grandi, ma incapace di aprire il cuore alla parola di Dio. Hanno paura, afferma, del silenzio della parola, e questi sono pseudocristiani e pseudopastori. Mancano infatti della roccia dell'amore del Signore, ma la gente, afferma il Papa, sa quando un sacerdoto, un vescovo, un cristiano ha la coerenza che gli dà autorità. Uno che sa ascoltare, e dall'ascolto fa. Fa, fa, con la forza della parola di un altro, non della propria. E quello rimane saldo. benché sia una persona umile, che non sembra importante, ma quanti di questi grandi ci sono nella Chiesa? quanti vescovi grandi, quanti sacerdoti grandi, quanti fedeli grandi, che sanno ascoltare, e dall'ascolto fanno. meno. Grazie a tutti